Ora oggi alle 18.30 in programma la partita di Primavera-Roma-Fiorentina per il campionato appunto Primavera e la Roma schiererà diciamo un po' a sorpresa come terzino sinistro Samuel Dalla, il calciatore svedese proveniente dal Dürgarten classe 2003 che quindi in un certo senso fa registrare un passo indietro visto che è stato preso come riserva di Angeligno ma in campo in sei giornate di campionato più una di Europa Liga ancora non si è visto ragazzo che è stato escluso dalle liste UEFA tra l'altro e pare che non abbia preso molto bene questa decisione perché giustamente lui pensava di venire a Roma per avere un po' di possibilità rimettersi in mostra ma è molto significativa anche l'esclusione dalle liste UEFA quindi cominciamo a porci degli interrogativi sulle scelte di calciomercato in particolare per quanto riguarda i terzini perché se Abdulhamid purtroppo non ci vuole un raffinato interprete per capire cosa c'è intorno all'operazione Abdulhamid che è chiaramente un gancio per il mondo arabo è un modo di rendere appetibile il marchio Roma e seguite le partite della Roma anche dal mondo arabo visto che c'è il primo arabo della storia che gioca in Italia e quindi per un motivo che è molto molto chiaro un meccanismo semplicissimo chiaramente se gioca Abdulhamid anche qualche partita anche in Arabia si vedono le partite della Roma ci si innamora della Roma si cominciano a tifare Roma si cominciano a comprare magliette di Abdulhamid eccetera eccetera quindi quell'operazione lì per quanto sia anche un po' discutibile dal punto di vista proprio del valore oggettivo del giocatore che deve crescere ancora tanto però si capisce bene cosa c'è intorno nel caso invece di Bubba Sangaré e Didal siamo molto perplessi perché è chiaro che Celic è un giocatore abbastanza limitato Angelinho un giocatore che in passato ha avuto anche problemi fisici e qualche partita la salterà anche lui quindi non abbiamo dato a questi nuovi questi nostri allenatori delle grandi alternative Umels ancora non è pronto per scendere in campo Ermoso lo vediamo è un giocatore esperto ma non lo vediamo ancora nelle migliori condizioni perché Ermoso sappiamo che ha delle responsabilità anche sul gol del pareggio del Genoa a Marassi e anche sul gol del pareggio dell'atletico Bilbao in Europa League quindi perché è lui che salta insieme ad Angelinho forse tra l'altro i due si ostacolano no in occasione del calcio di punizione che porta alla torre per poi il gol del pareggio quindi se a questo aggiungiamo qualche problemino fisico per Mancini e un ondica che ha fatto delle buone prestazioni ma è anche apparto un po' distratto in alcune situazioni all'interno dell'area di rigore come soprattutto ieri ma non solo quindi noi dobbiamo ringraziare soprattutto questo portiere che ogni partita ci regala delle perle è stato così anche con la Venezia con il vilà che ci salva in almeno tre occasioni quindi sul nel primo tempo subito poi c'è una bella parata anche in occasione sul finale di tempo quando c'è poi il salvataggio sulla linea di Mancini e poi c'è una ottima parata su ristagno lanciata a rete ma nemmeno il bravissimo Svilar ci poteva salvare sul gol di Aps che è stato annullato dal fuorigioco di Zampano nel secondo tempo quindi è evidente che abbiamo concesso veramente troppo al Venezia uno dei motivi purtroppo è questi errori che sono stati commessi nella costruzione della squadra particolarmente nella zona difensiva perché se noi siamo ormai a ottobre con questo Dalla che invece di andare avanti va indietro pur di mettere minuti nelle gambe Abdulhamid che è un giocatore ancora tutto da decifrare da istruire vorrei dire e Sangare che è un ragazzino ci rendiamo conto che Hummers ripeto ancora non è pronto che veramente la costruzione della squadra per quanto riguarda la difesa è stata a dir poco fallimentare